Cerchio e seno magister, cerchio e seno attraverso NT, magister, tanto del vostro tempo terreno lo sprecate inutilmente. Io che sento appieno le vostre vibrazioni, vedo che alcuni di voi danno troppa importanza alle vicende quotidiane e trascurano perciò le vere azioni spirituali. Vorrei offrirvi un paradigma per un esercizio mentale. Provate a vedere voi stessi riflessi in uno specchio. Provate ad interrogare l'immagine riflessa come se fosse una persona diversa da voi. mamma, padre, figlio, sorella. Sono solamente immagini stereotipate che obbediscono alla sola necessità della società. Con l'esercizio dello specchio voi potete trascendere la singola vostra individualità e potete proiettarvi nella realtà cosmica e risolvere così le prove che l'incarnazione vi obbliga ad accettare. Esteriorizzate il vostro pensiero distaccando il vostro io razionale dal vero ego spirituale. Il vostro vero ego opposto all'io fittizio dell'immagine riflessa vi darà le risposte che cercate. Dovete sapere che molte mantiche antiche e divinatorie avvenivano proprio con tale esercizio. Io sono stato definito un mago nel senso dell'esatto significato del termine. Ricordate i tre magi? Ebbene, il termine mago sta a significare colui che ha superato le anguste strettoie della mente razionale. Il mago è colui che attinge alla fonte universale. Nell'immagine che vedrete riflessa nello specchio dovete saper riconoscere voi stessi oltre la forma che i vostri occhi terreni percepiranno e dovrete saper parlare al vostro alter ego fittizio come se fosse la vostra stessa coscienza. Se saprete ascoltare l'interiorità del vostro essere non ci sarà bisogno di porre domande verbalmente ma sarà l'immagine stessa a darvi le risposte. Ed ecco che torna utile il consiglio delle vostre guide, ossia chi di voi sentirà di aver necessità di tale strumento dovrà imparare l'arte della concentrazione. So che è difficile ma molti iniziati hanno dovuto apprendere tale conoscenza e cammino. Devo salutarvi e se volete ricordarmi per voi sono il magister. Ricordate anche che se tali esercizi vengono intrapresi devono essere usati cum grano salis.